Musica Ciao a tutti ragazzi, qua è il Camilletto che vi parla e benvenuti nel mio primo video del nuovo canale che ho appena aperto e sono su Cube World, un gioco che mi ha entusiasmato molto, non è uscito da tanto, non l'ho comprato ancora ma ho intenzione di farlo non appena sarà sviluppato un po' meglio, ho avuto un po' di problemi nel provare a registrarlo perché lagga molto milioni di persone ho letto che hanno problemi di lag, speriamo che non ci importuni e ci dia fastidio questo aspetto ma è un gioco che mi ha incuriosito molto, non so bene come funzioni, ho visto soltanto alcuni video qua siamo alla creazione del personaggio e si è basato, basta che andate sul sito, su Minecraft e altri tipi di giochi tipo Zelda, infatti vedete rispetto a un mondo a cubetti, ovviamente il titolo ce lo riporta, stile minecraftiano ma abbiamo delle classi da scegliere, stili di combattimento, equipaggiamenti, città e missioni da svolgere per cui ho detto perché no, mi sa che è molto divertente, potremmo farci tante risate a esplorare e scoprire questo nuovo mondo, vi ripeto ho visto soltanto alcuni video, non sono molto esperto del gioco quindi lo diventeremo insieme, così magari se vi piace potete tranquillamente provarlo spero che vi sia piaciuta la nuova intro, terrò quella, so che quella vecchia ci siete affezionati ma molti di voi mi hanno detto che questa, qualcuno mi ricordo che mi ha scritto quando l'ho fatta vedere in live mi ha detto sei passato dall'El Camilletto all'Epico ed è una base di una canzone che suoniamo con il nostro gruppo mi piaceva molto e ho deciso di metterla spero che vi piacerà perché ci sarà sempre questa veniamo al gioco ora, abbiamo la creazione del personaggio diverse razze, umano che è uguale a Claude di Final Fantasy 7 è difficile non prenderlo ma non lo prenderò abbiamo l'elfo, il nano, l'orco, il goblin e il lizard e il non morto, il frogman ho intenzione di creare un personaggio femmina vediamo un po' per vedere bene i capelli e mi piaceva farla, non lo so, visto che le classi un po' più scelte sono ce ne sono 4 come vedete, il guerriero, il ranger, il mago e il ladro direi di poter provare a fare un bel ladro non credo che sia facile da giocare ma noi possiamo provarci non un orco volevo fare un personaggio cattivone, un non morto mi entusiasmava, vediamo un po' come sarà faccia non è che cambi molto questa non mi dispiaceva teniamo questa con un taglio di capelli che ecco che posso sembrare che siamo una signorina perché le nostre avventure ragazzi siamo nei panni di Pinola per cui Pinola ci farà da capo stipide in questo mondo e vedremo come funziona abbiamo qua dei mondi che avevo già creato adesso creiamo il nuovo uno l'avevo chiamato Gino Pino uno Timo un po' un seed ne avevo visto qualcuno speriamo che sia un multi seed multi bioma il nome del mondo come possiamo chiamarlo quello l'avevo chiamato Timo un nome orribile che non ho intenzione di ridarglielo pensiamo pensiamo un po' questo mondo cosa potrebbe riservarci cosa potrebbe succedere lo chiamerò Timo creiamo il mondo adesso ci sarà ovviamente il processo di creazione e mi entusiasma molto il fatto che ci siano missioni mostri da affrontare città equipaggiamento crafting insomma è un minecraft portato ad altri livelli credo che non ci sia l'aspetto delle costruzioni come su minecraft che è l'aspetto prevalente oltre alla sopravvivenza qua vediamo un po' che ci succede abbiamo questa nebbiolina mentre il mondo si sta formando abbiamo la mappa diamo tempo e modo al computer di elaborare tutto quanto ok già vedo che M2 allora abbiamo F1 che ci dà praticamente la schermata dei tasti abilità 1,2,3,4 che non ho Q use quick item tab possiamo selezionare ok premetto una volta sola per me se la fa possiamo selezionare adesso abbiamo le pozioni ok si muove shift walk free aim quindi se premiamo shift ho la mira libera va bene e cammina invece di correre poi abbiamo CTRL che si arrampica space jump world map inventario infatti abbiamo come vedete se premiamo esc qui anche abbiamo ok le opzioni la mappa suppongo che queste siano enorme è infinita la mappa sia una città quindi potremmo muoverci verso la città inoltre abbiamo ok questo è l'equipaggiamento gli oggetti gli ingredienti e i pet possiamo prendere degli animali so che ogni animale ha un cibo preferito e varie cose quindi è un aspetto che mi piace molto questa è la B la C è il crafting armi va bene le X sono le skill i punteggi a seconda di come noi vogliamo fare il nostro il nostro personaggio fantastica questa cosa ok qua ci sono le nostre statistiche resistenza critici tempo non so cosa sia vediamo un po' nel nostro equipaggiamento abbiamo che sto facendo Iron Dagger Iron Dagger abbiamo anche un Iron Longsword preferisco lo stile a due pugnali nonostante ancora non riesca bene a capire perché non mi schiacci l'M2 se abbia un utilizzo particolare o no dunque io volevo muovermi verso questa mappa quindi suppongo di dover andare di qua vediamo dobbiamo cercare di prendere tutto quello che incontriamo questa è una bella statuetta sembra che non mi laghi sono molto contento non c'è niente di speciale per cui noi continuiamo a muoverci verso questa direzione possiamo già aggrapparci si ha ok bene abbiamo una barra di resistenza che una volta finita cosa sono questi questa è una bella mi ha creato una questa oh mi sta colpendo è fortissimo questo pollo sta anche volando attenzione sono riuscito a ucciderlo ma mi ha disintegrato quando posso ho uno di esperienza mi ha utilizzato sono sono quasi morto per vediamo un po' se posso andare gli stealth mi sta vedendo vediamo un po' va in stealth ok quando mi si carica la barra dei degli mp sembra che io possa andarci ma devo stare attento perché ci sto morendo contro questo pollastrello tocca usare una pozione bene e dirigiamoci diretti verso la città bisogna stare attenti perché i mostri ce ne sono molti e di vario tipo ok quello là cos'è lane runner di solito quando è rosso verso il rosso è un mostro difficile da affrontare per cui non mi sembra molto il caso considerando che io già stia succando questo stealth è fantastico stia con la e se non sbaglio si raccoglie si si raccolgono gli oggetti l'atmosfera è fantastica mi piace parecchio e ok bene potrei anche salire sulle fronde degli alberi e cercare chissà se posso c'è un modo per salire cos'è accogliamo un fungo so che con diversi tipi di ingredienti si possono realizzare pozioni e cavoli vari chissà se può notare una cosa che non so di preciso si che carino posso notare ok quella là non mi sembra una grande cosa elfi 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 che stanno girovagando che siano amici o nemici non lo so la barra era blu ma penso che siano amici qua ci siamo finalmente avvicinati a una città beh fiorellini ecco li vediamo un po' questo ha un granchio come nuovo pet ok sono amici questi sono i punti in cui noi possiamo rifocillarci come vedete possiamo cucinare abbiamo il ginseng c'è un modo per cucinarlo mi serve altro è una cosa che non so possiamo dormire per riposarci non c'è niente di speciale e in più abbiamo questa cosa anche qui non c'è niente di speciale andiamo qua allora abbiamo M1 normal special attack M3 dodge zoom come si farà a fare il dodge wow capito bello 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 bene ragazzi andiamo a vedere la città ovviamente questi sono i primi video anche il limite di tempo e vediamo un po' siamo a Tagore City questo cos'è l'in so che nell'in si può riposare se non sbaglio per far passare il giorno e la notte non c'è niente di speciale da nessuna parte apriamo ed entriamo salve monsieur guarda la nostra la nostra cara pinola mamma mia che musica mi ha stordito le orecchie ok my clean b skill 285 però ok ok nell'in credo di non aver nulla da fare al momento ah questa è una finestra dove cavolo è la porta eccola qua sono una brava pinola non morta perché chiudere raccogliamo tutte queste fantastiche pineapple oggetti oggetti da raccogliere qui credo che non dica ancora niente qua abbiamo un terriero blu non posso attaccarlo abbiamo diversi tipi di animale quando io scoprirò l'oggetto una pecorella l'oggetto giusto da dargli diventeranno diventerà il mio caro compagno fedele di avventure qui cosa c'è un sacco ma non c'è mai niente di speciale sono una ladra dovrei riuscire a a rubare tutto quanto un po' se riesco a passare lassù no patrick lui ama viaggiare da città a città se tu pensi che a me me ne freghi qualcosa io sono pinola item shop ok in cui sicuramente possiamo comprare possiamo dormire ecco qua che ci addormentiamo bene usciamo bene ragazzi direi che il momento questo video può finire qui così mi informo un po' su quello che c'è da fare questi sono i passi dei vari suppongo della ronda si eccoli qua un'orda di orchi vediamo la natura pure tu hang gliding fantastico questo sempre lui dove siamo nella mappa fatemi vedere la mappa è sconfinata e noi al momento ne abbiamo esplorata pochissimo potete vedere quanto avete esplorato se non sbaglio dalmeno quando cominciate la partita bene ragazzi qua è pinola che vi saluta dal team of sword e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti